Una delle più importanti scoperte degli ultimi anni secondo gli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità che hanno portato alla luce una basilica bizantina a tre navate edificata nel VI secolo sotto l'imperatore Giustiniano e decorata con splendidi mosaici e vetrate. Tra i resti c'è anche un'iscrizione che dedica la chiesa a un glorioso martire non identificato. La chiesa emersa dopo tre anni di scavi archeologici a 30 chilometri a ovest di Gerusalemme si estendeva per circa 1500 metri quadrati con una navata centrale due laterali due cappelle e una cripta. Era adornata con intricati mosaici e colorati a freschi sulle pareti e doveva avere alti pilastri coronati da imponenti capitelli. Pochissime altre chiese in israele sono state portate alla luce con una cripta assolutamente intatta ha spiegato benjamin storkan direttore degli scavi per conto delle autorità dell'antichità. Alla cripta aggiunge l'archeologo si accedeva tramite scale parallele che permettevano l'afflusso a un grande numero di pellegrini. L'eccezionale opulenza della struttura e delle sue iscrizioni indica che il martire qui venerato dove essere una figura molto importante. Sono migliaio gli oggetti portati alla luce durante gli scavi. Fra di essi figura il più completo assortimento di finestre in vetro e lampade bizantine, materiale esposto in una mostra appena inaugurata a Gerusalemme dedicata all'eccezionale scoperta della basilica del glorioso martire.